Per qualunque patologia arrivare ad una diagnosi il più precocemente possibile è molto importante perché logicamente così si possono instaurare tutte le possibilità terapeutiche di cui il paziente può usufruire. In certi casi questo è più agevole, in altri casi un po' meno. E questo è il caso, il secondo di quelle in cui è più impegnativo, delle spondilortriti assiali. Ci sono però delle metodiche diagnostiche oggi molto efficaci e noi ci facciamo raccontare di cosa si tratta da un vero esperto, dal professor Giuseppe Lopalco, professor di reumatologia all'Università degli Studi di Bari. Professor Lopalco, innanzitutto quali sono i sintomi, i primi campanelli d'allarme delle spondilortriti assiali? Sì, grazie per la domanda. Partiamo subito col dire che le spondilortriti assiali sono un gruppo di patologie che rientrano nel più vasto gruppo di spondiloartriti e hanno la caratteristica di avere un interessamento dello scheletro assile e delle articolazioni sacroiliache. Nell'ambito di queste patologie il primo campanello d'allarme che può porre il sospetto diagnostico di avere a che fare appunto con una forma infiammatoria assiale è proprio il dolore lombare, molto spesso percepito o raccontato dal paziente come una sorta di glutalgia o sciatalgia che si interrompe a livello del capopoplitio e si caratterizza soprattutto per un disturbo del sonno notturno. Molto spesso il paziente è risvegliato appunto dal dolore e di conseguenza può rappresentare una red flags per l'indirizzo di questa tipologia di paziente allo specialista in reumatologia. Professore, io ho parlato dell'importanza di una diagnosi precoce, ma cosa succede se la patologia viene trascurata se non vengono immediatamente presi dei promettimenti farmacologici, che oggi per fortuna ci sono, ce ne sono diversi, anche molto efficaci. Cosa succede se si aspetta troppo? Uno dei grossi ammet needs ancora oggi nell'ambito di queste patologie, nel caso specifico delle spondi d'artrite, è proprio il ritardo diagnostico. Spesso il paziente arriva all'osservazione del medico specialista in reumatologia con un ritardo diagnostico dall'esordio della sintomatologia che può essere di 7-10 anni circa. Questo in qualche modo consente una prognosi peggiore della malattia e quindi una progressione della patologia che può portare ad importante disabilità fisica. Di fatto dobbiamo considerare che il processo infiammatorio che si localizza a carico della colonna o delle articolazioni sacroiliache può portare alla formazione di ponti ossei della colonna o di una fusione delle articolazioni sacroiliache con una compromissione dello stato funzionale e quindi della capacità fisica del paziente stesso. E con lo specialista come può fare a indagare che strumenti ha per capire il più precocemente possibile se si tratta della patologia appunto che lei ci ha raccontato, della spodiloartrite assiale. Sì, oggi abbiamo diverse tecniche di imaging che ci consentono di identificare il prima possibile questi tipi di patologie e arrivare a una diagnosi molto precoce che ovviamente è l'obiettivo principale del reumatologo per impedire che si raggiunga quella che è la disabilità fisica in questa tipologia di pazienti. In particolar modo uno degli esami, dei gold standard che può essere utilizzato per identificare un processo infiammatorio a carico della colonna o delle articolazioni sacroiliache è la risonanza magnetica nucleare ed in particolar modo alla risonanza magnetica nucleare quello che risulta evidente è la presenza di edema osseo, espressione appunto del processo infiammatorio a carico della colonna o piuttosto delle articolazioni sacroiliache. E con le altre tecniche di imaging, ad esempio l'ecografia, la radiografia, le TAC, possono avere un ruolo nel momento per facilitare la diagnosi oppure possono avere un ruolo successivamente? Sì, abbiamo altri tipi di tecniche di imaging che possono essere adottate in questa tipologia di pazienti. Se consideriamo le manifestazioni periferiche, quali ad esempio lentesite, che è un processo infiammatorio che colpisce delle strutture tendine a ponte o meglio delle strutture anatomiche tra il tendine e l'osso, può essere molto utile nella sua identificazione l'ecografia tradizionale, quindi l'ultrasonografia. La radiologia tradizionale, quindi sotto forma di RX tradizionali del bacino o piuttosto della colonna, servono per effettuare un monitoraggio nel tempo del paziente e possono non essere utili nelle fasi precoci di malattia, ma piuttosto mettere in evidenza ad esempio una patologia long standing, quindi nel momento in cui si sono già formati i ponti ossi a carico della colonna o il processo infiammatorio a carico delle sacroiliache è andato ulteriormente avanti e quindi è progredito nel tempo determinando la disabilità fisica nel paziente. Per quanto riguarda la TAC, la TAC è una metodica molto sensibile, lo è molto di più rispetto alla radiografia tradizionale, però anch'essa non può essere non utile nelle fasi precoci nell'identificazione della patologia, quindi nel momento che porta alla diagnosi. Ad ogni modo in quei pazienti in cui vi è il dubbio di un interessamento infiammatorio delle articolazioni sacroiliache o meglio per andare a individuare delle microeresioni a carico delle articolazioni sacroiliache possiamo avvalerci dell'utilizzo della TAC che è molto più sensibile rispetto alla radiografia tradizionale. Professore ci siamo concentrati sul ruolo dello specialista, ma nel percorso diagnostico terapeutico è importante anche il ruolo del medico di famiglia e in che modo? Il ruolo del medico di famiglia è fondamentale, soprattutto nel momento in cui il paziente comincia a sviluppare questo tipo di patologia. Come abbiamo detto nella fase iniziale, il dolore infiammatorio è uno degli aspetti più caratteristici che quindi contraddistingue la spondiloartritassiale e quindi rappresenta un elemento patognomonico della malattia. Per cui il paziente che si rivolge al suo medico curante per la presenza di una lombalgia che migliora con il movimento, che peggiora con il riposo, soprattutto durante la notte, che risponde molto bene alle terapie con gli antinfiammatori, considerando magari anche una anamnesi familiare positiva per patologie infiammatori articolari come le spondiloartriti, può sicuramente giocare un ruolo pivotale nel sospettare una spondiloartritassiale e indirizzare il più precocemente possibile il paziente allo specialista in reumatologia.